Con l'avvocato Giovannino Di Meglio un evento all'associazione Luca Brandi per sottolineare l'importanza di Ferdinando II di Borbone per il regno di Napoli delle due Sicilie ma soprattutto per l'isola d'Ischia. Sì perché è stato un grande benefattore tra i pochi che veramente hanno fatto tanto bene per Ischia. Io ho citato pure altri due re Alfonso d'Aragona e Roberto Danciò e lui è stato veramente un grande. Ho voluto che venisse ricordata questa figura proprio in questi giorni perché il 27 dicembre del 1894 è morto l'ultimo re di Napoli Francesco II che è vissuto qui a Ischia nel Casino Reale. Quindi ho voluto ricordare il padre e il figlio due persone che hanno amato Ischia e che Ischia le ricorda sempre con piacere che gli storici hanno cercato malamente di accusare, di ironizzare, di mettere da parte, di sfotterli diciamo così tra parentesi chiamando Francesco II Franceschino come un re in berbe, in etto. Invece lui è stato un uomo di grande coraggio che ha dimostrato veramente di avere la passione nel sangue per difendere la terra e difendere i cittadini perché in un proclamo, in un ultimo proclamo che fa Francesco II gli dice guardate voi cittadini piangerete lacrime amare perché vi toglieranno tutto. E così è stato. Ferdinando ha dato tutto, gli altri ci hanno tolto tutto. Ma noi un poco alla volta ci riprenderemo quello che è nostro.